La Roma è l'unica squadra dell'attuale Serie A contro cui la Salernitana non abbia fatto punti in questa stagione. Lunedì all'Olimpico i Granata proveranno a colmare la lacuna, caricati dall'entusiasmo dei tifosi che ieri si sono dati appuntamento al Meri-Rosi e che in poco meno di 4.000 saranno presenti allo Stadio Olimpico. I giallorussi hanno ottenuto il pass per la finale Europa League del prossimo 31 maggio e sanno che con la conquista della Coppa conquisterebbero automaticamente la qualificazione alla prossima Champions, obiettivo che sarebbe più difficile centrare attraverso il piazzamento in classifica in Serie A, fatta salva l'eventuale penalizzazione che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni per la Juventus. All'Olimpico sarà derby portoghese in panchina per una sfida inedita tra Murigno, che ha vinto tanto da allenatore, e Paolo Sosa, che ha un palmares importante da calciatore e che vuole fare strada anche da tecnico. Il duello lusitano in panchina sarà interessante così come quello sul campo fra due squadre che sono in salute dal punto di vista mentale e che potranno contare sul calore delle rispettive tifoserie unite nel ricordo di Agostino di Bartolomei. La solitana potrebbe essere salva già tra sabato e domenica, ma Sosa vuole conquistare altri punti a prescindere da ciò che avranno fatto le dirette concorrenti. L'Olimpico è un palcoscenico prestigioso ed affascinante, sul quale tutti ci tengono a lasciare il segno. Il tecnico ganata a piena abbondanza, ma potrebbe anche dare continuità alle scelte effettuate in occasione della vittoriosa gara interna con l'Atalanta, sia perché è arrivata la vittoria, sia perché ci sono dei calciatori che hanno bisogno di essere testati anche in contesti diversi e contro avversari di caratura. Il triwander in difesa potrebbe perciò essere riproposto, anche se Ghiomber ormai assume al titolo l'infortunio. In avanti c'è la tentazione di riproporre il tridente pesante con Butaheim, Piontek e Dia. Candreva potrebbe allungare il suo minutaggio dopo circa 15 minuti di estrema qualità e concretezza disputati contro la Dea. In mediana c'è abbondanza con Boine e Neymaggiore che sono calciatori di proprietà, reduci da una stagione senza grande continuità. Il finale di stagione potrebbe essere il momento buono per vederli più spesso in campo, anche se la coppia culibali-vilena ha fatto finora la sua parte. Sulle fasce è certa la presenza di Barada Riccia a sinistra, molto probabile quella di Mazzocchi a destra, dove però l'opzione Cassano è sempre molto intrigante. Il Cipriota troverà sicuramente spazio durante la gara e proverà anche a cancellare il ricordo amaro dell'occasionissima sciupata lo scorso anno. Novità per il ritiro precampionato. La squadra di Natasa arrivi-Sondoli fino al 26 luglio per poi traslocare con tutta probabilità a Fiuggi, onde evitare la sovrapposizione col Napoli, atteso dal 28 luglio a Castel di Sangro. Nei prossimi giorni l'ufficialità per il lancio della campagna abbonamenti si attende il via libera definitivo per la riapertura della Curva Nord. Grazie. 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 Grazie.